Buon pomeriggio spettatori di Teletrio, quest'oggi andremo ad occuparci di un po' di cultura. Andremo a parlare di questo libro, I viaggi della rondine, scritto dal professore Pietro Capuzzimati. Allora, professor Capuzzimati, lei è nativo di Faggiano? Sì, sono nato a Faggiano, è precisamente il 24 marzo del 1937, in via Dante Alighieri, nel palazzo Calviello, uno dei protagonisti delle vicende narrate nel libro. Bene, professore, quindi fino a qual'età lei è rimasto a Faggiano? Sono rimasto fino all'età di 19 anni. Io ho compiuto gli studi classici al liceo Archita di Taranto, poi per l'impossibilità di frequentare l'università a Bari. Non c'erano mezzi di comunicazione, la mia famiglia era impossibilitata a mantenermi a Bari. Dal momento che mio fratello si trovava già a Torino, ne approfittai, su sua richiesta, ma anche su mia necessità, di andarmene a Torino. Avevo 19 anni. E fino ai 19 anni, professore, come si è svolta la sua vita? La mia vita è punteggiata da momenti moltissimi di gioia e di tranquillità fino a liceo. Questa vita è caratterizzata specialmente per gli anni vissuti a Palazzo Vaccariello, perché poi, quando ho avuto 17 anni, siamo andati ad abitare in Via Verdi. Però Palazzo Vaccariello mi ha veramente formato per i ricordi che ho avuto. Il Palazzo Vaccariello è caratterizzato da una grande scalinata e noi ragazzini si giocava per strada. Naturalmente il gioco più importante era quello del pallone. Dico pallone, ma tra virgolette perché si giocava con una palla di pezza, nel senso che si prendeva una calza da donna, si mettevano degli stracci dentro, la si avvolgeva in modo che potesse diventare una specie di palla e lì si giocava. La maggior parte dei ragazzi, compreso me, giocava a piedi nuti e naturalmente saltavano le unghie che era un vero piacere. La caratteristica del gioco era il fatto anche che passassero ogni tanto per la strada, ci troviamo in Via Dante all'altezza del Palazzo Vaccariello, passassero delle donne con la minzana appesa, mantenuta sul fianco. E noi altri ragazzi ogni volta quando passava qualcuno di questa donna, solitamente si diceva, dicevamo, ma da fa' bevere? La donna il più delle volte era gentile, però dopo una prima, seconda, terza bevuta contro ogni legge igienica, la donna si stufava e solitamente diceva e a casa c'è Gesce con la minzana vacante e quindi noi lasciavamo perdere. Alcuni degli altri elementi caratteristici di questi giochi era per esempio il fatto che passasse da quella strada, ma è raccontata molto meglio nel libro, che passassero dei personaggi, uno di questi era Giro di Mafiscia. Allora, Giro di Mafiscia era conosciuto a Fagiano per il fatto che ogni volta gli si rivolgesse questa domanda o vivo, lui immancabilmente rispondeva o muerto. Era un personaggio caratteristico che poi è stato, come dire, un po' nobilitato da me nel libro perché ne ho fatto una specie di preveggente o di cultore della religione approfondita, nel senso che ci ho messo dentro dei pensieri di Vito Mancuso e il fatto che lui desse, come dire, anima alle cose, nel senso che parlando con mio cugino diceva sempre a Giovanna, questa macchina non va, non gli dai, lui gli dava accordo, gli rispondeva, sì, ma è un po' stanca la macchina, ma falla lavorare perché è in grado. E così di seguito. Indimenticabile un episodio che capitò proprio a me. Mentre giocavamo arriva questo personaggio sulla mula e io dicessi, o vivo improvvisamente chissà perché in quell'istante la mula si espresse col suo di dietro e il fratello di Ciro, che per combinazione quel giorno la sua mula, mi rispose e pigli di questo, prendi di questo come per dare una risposta un po' ironica così al mio saluto tipico di Ciro. E tanti altri episodi su questo palazzo, questo palazzo c'erano topi, una notte mia madre è stata rubata addirittura, dai topi la camicia che papà metteva al mattino, non ce ne eravamo accordo di dove fosse sparita questa camicia, all'improvviso poi con l'aiuto di una mia zia, mia madre, scoprì delle tracce sulla scala che portava alla terrazza e quindi erano stati topi a portarla. E altri episodi, lì vicino abitavo un personaggio che si chiamava Michele, io nel libro l'ho chiamato Giorgino, come era lui, quindi se andate a leggere il libro potete ancora godere di questi episodi caratteristici del palazzo Vaccariello. Benissimo, e una volta arrivato a Torino, come ha proseguito la sua vita? Grazie della domanda. Dunque a Torino arrivo in un giorno di novembre, nebbioso come era solita Torino, essere nebbiosa in quei tempi, il clima sta cambiando anche a Torino. Arrivo, venne a prendermi la stazione mio fratello e mi portò in una locanda, abbastanza significativa come impatto per me, perché ero passato da, passavo da una casa, una bella casetta in via Verdi, in una cameretta di questa locanda. In questa locanda c'era una ragazza che era a servizio, in questa locanda ci ha accompagnato nella stanza. È rimasto impresso questo primo giorno a Torino perché mio fratello era risaputo, ma si sapeva anche a Faggiano era il bello della famiglia, dico era il bello perché purtroppo è mancato un po' di anni fa. Era il bello della famiglia e allora arrivato io in questa locanda, questa ragazza, rivolgendosi a mio fratello, gli fa, ma questo è tuo fratello? Ma è proprio brutto tuo fratello. E io, immancabilmente, zeccavo bene a Torino, dissi fra me. Però è quello anche che pensavo. A Torino la mia vita è stata piuttosto, non diciamo drammatica, comunque molto avventurosa. Io dovevo frequentare l'università, mio fratello doveva, doveva, tra virgolette, mantenermi agli studi. Ma la cosa non andò proprio così. Il lavoro di mio fratello non è che fosse un lavoro altamente retribuito. Lui faceva il falegname, a un certo punto mi resi conto che era anche mio dovere cominciare a lavorare. E di lavori ne ho fatti a bizzeffa. Nel libro si racconta che sono solito fare queste battute. Io ho fatto tutto in ritardo, mi sono laureato in ritardo, mi sono sposato in ritardo. I figli li ho avuti in ritardo perché mia moglie è di animo nobile e grandissimo. Voleva che i figli fossero adottati. Però io non so se dire da buon meridionale, non so se dire da buon italiano, dicevo però qualche figlio, tra virgolette, fatto anche da me, lo vorrei. E sono nati due figlioli, Federico e Gabriella. Quindi figli anche in ritardo. Allora, sono solito dire con gli amici, mi resta da fare anche un'altra cosa in ritardo. Lasciare questo pulviscolo nel mondo infinito dell'universo quanto più possibile in ritardo. I miei amici si mettono in ritardo e io dico loro, aspettate perché ci sono altri due elementi corroboranti a questa mia idea, a questa mia battuta. Primo, mia madre di cognome Faccampa è morta a 101 anni e 7 mesi e quindi ho un buon precedente. Non solo, ma io ho un cugino il cui nonno di soprannome faceva il padre eterno. E non vuoi che mio cugino non mi faccia una raccomandazione con colui che tutto può e tutto vede? E così finisce la battuta. Fra i mestieri fatti a Torino, ma sono raccontati tutti nel libro, sono stati quelli di lavapiatti, di venditori di assicurazione senza averne fatto una. E l'ultima che veramente, fra l'altro, mi è abbastanza piaciuto, ho diretto due collegi a Torino. Fra l'altro, in uno di questi collegi è capitato, come si legge nel libro, un cittadino di Faggiano che molto onore e molto lustro ha dato alla nostra cittadina. Poi mi sono laureato, sono venuti i figli e la vita è continuata. A questo punto, però, professore, ci lascia incuriositi. Vogliamo sapere chi è questo illustre personaggio che è venuto da lei in collegio? Dunque, il personaggio, se così si può dire, è Mimmo Sgobba, all'anagrafe Domenico Sgobba. Arriva questo ragazzo nel collegio e i miei collaboratori mi informano che c'era un ragazzo di Faggiano. incuriosito, vado a trovarlo, i collegi erano due, io mi trovavo nell'altro collegio, vado a trovarlo e ci conosciamo. Poi mi informo nei giorni successivi di come si comportasse questo ragazzo e mi dicevano a pie, non è che studi proprio un granché. Allora, spesso, io andavo a trovarli, questi allievi, la domenica sempre, con Mimmo faceva, ah, Sgobba, Sgobba, tu ti chiami Sgobba e Domenico. Mi sa che tu manco la domenica Sgobbi. e ridevamo a vicenda. Gli anni sono passati, Mimmo Sgobba torna a Faggiano e devo dire che se io potevo chiamarmi allora maestro di Sgobba, l'allievo ha di gran lunga superato il maestro. Sgobba è stato l'artefice di tante trasformazioni del paese, è stato sindaco per ben cinque mandati, un anno come assessore e ancora attualmente vedo, noto, leggo che è una personalità a Faggiano, fa parte del lanci nazionale, sempre a Bari, e quindi quando vengo a trovarlo, oltre l'abbraccio, non ci possono essere altro che congratulazioni e congratulazioni. Mimmo Sgobba. A Torino, invece, come si svolgeva la sua vita? Per i primi tempi si è svolta così come ho accennato prima, poi mi sono sistemato, mi sono sposato e adesso la mia vita trascorre, diciamo, normalmente. Però ho cercato di riportare il mio paese a Torino. Vale a dire, quando saluto gli amici, io non dico cerea, come dicono a Torino, ma dico stati buono. Naturalmente, dopo aver spiegato loro che stati buono non significa un'esortazione a non essere cattivi, ma è una forma di saluto che vuol dire stai bene, cerca di stare bene. Non solo, ma a Torino ho riportato, per esempio, certe battute note ancora adesso a Faggiano. Faggiano, io la ricordo, con Michele Di Pastina che diceva sempre Faggiano è la conca. Ebbene, quando poi ho fatto l'insegnante, con degli amici, ho insegnato loro il significato della conca. Per cui, ogni volta che arrivava un collega, per noi, un po' strano, o vestito in un certo modo, con dei tic particolari, chi lo vedeva per primo diceva all'altro a piede, oppure a massimo, a francè, eravamo tre o quattro a sapere questa cosa, la giacosa, è la scuola media dove ho insegnato, la giacosa e la conca. E ridavamo tutti e due, tutti e tre, tutti e due. Naturalmente gli altri colleghi non sapevano il significato della battuta. Io per questo, così, ridevo con i due o tre complici di questo. Naturalmente adesso a Torino, da pensionato, non faccio altro che fare ogni mattino, percorrere la via della spesa, anziché la via della seta, che è il percorso che vado da casa mia al mercato rionale giornaliero che c'è a Torino, è lungo il tragitto spesso di personaggi in incontro anch'io e sono descritti anche nel libro. Questo naturalmente sta a voi fare dei collegamenti, delle quasi comparazioni tra i personaggi di Torino e quelli di Faggiano. Io sono stato sempre, come dire, incuriosito dalle vicende dell'umana specie. A Torino abbiamo costituito, descritto, un gruppetto di ex colleghi e ogni tanto ci vediamo. Come chiamare questo gruppo? Mi è venuto, siccome il fine del gruppo di mangiare, divertirci, raccontarci barzellette o fare gossip dei colleghi che avevamo avuto, il gruppo l'ho chiamato Goduria. Ma Goduria non è solo Goduria perché ci divertiamo, Goduria è un acronimo perché significa Gaudenti Osservatori delle Umane Ridicolaggini Insegnanti Ameni. Goduria. Per cui a scuola quando ci incontravamo, anziché salutarci, ciao Massimo, ciao Francesco, ci salutavamo, Goduria è chiaro che i colleghi non addetti ai lavori della gola e della parola gossipara non sapevano il significato e noi a ridere. E quindi la mia vita si svolge così, adesso ho una nipotina, Alice, che saluto e alla quale come tutti i nonni vogliono un gran bene, per la quale mio figlio quando gli dico Federì mi fai lavorare troppo a guardare la bambina, lui giustamente mi risponde ma papà lascia perdere, ti ho ridato la vita e in effetti mi ha ridato la vita con questa bambina. Benissimo, giungiamo quindi finalmente a parlare del suo libro. Come mai le è venuto in mente di scrivere un libro e soprattutto la struttura, come è formata di questo libro? Dunque, venendo a Faggiano e ricordando anche io i soprannomi di Faggiano, tra parentesi le zenne, che poi ha approfondito anche il significato di zenne con i trianomina derivati dal latino eccetera eccetera, e episodi ad alcuni dei quali ho accennato prima, ho avuto l'idea che questo potesse avere qualche significato specialmente per i miei figlioli, ma sono stati proprio loro, Federico e Gabriella, ad incitarmi a mettere nero su bianco perché anche loro ricordassero delle vicende del papà che era emigrato, come tanti emigranti, e così ho approfondito la cosa e ho detto ma perché non mettere anche oltre le vicende di Faggiano quello che mi è successo e mi è successo una grande cosa a Firenze facendo il militare e poi quello che mi è successo e mi succede a Torino. E così è nata l'idea del libro. L'idea del libro c'era poi da scrivere il titolo, il titolo è i viaggi della rondine che non è, come ho fatto notare agli amici, non è il viaggio della rondine, non è il volo della rondine ma è i viaggi della rondine, perché a me è successa una cosa strana, una cosa strana nel senso che sono stato artefice della salvezza e della messa in libertà di una rondine che si era impigliata sulle grondaglie di una scuola con i pompieri chiamati eccetera eccetera, che ho collegato poi a un fatto che sono venuto a scoprire dopo che era successo questo episodio, nel senso che camminando per Faggiano con mia moglie e con mia madre, una vecchietta avvicinandosi a mia madre dopo i convenevoli dei saluti, del come stai, come state a casa, questa signora si è rivolta verso mia madre dicendole a Mimì, mia madre si chiama Cosima, Mimina, ma questo è il ragazzo al quale abbiamo fatto mangiare il cuore della rondine? E la mamma ha risposto sì, allora avevo 39-40 anni, allora ho scoperto che anch'io come il capitano ultimo dice nel suo romanzo cuore di rondine, ma lui la rondine l'ha uccisa, ho mangiato il cuore della rondine, perché nella cultura popolare contadina dell'epoca mangiare il cuore di una rondine avrebbe significato per il carnivoro, consapevole o inconsapevole, avrebbe significato vita fatta di saggezza, di forza, di onestà, eccetera, il capitano ultimo è famoso perché fra l'altro oltre alle imprese nei paesi nell'Afghanistan, mi sembra, in Iran abbia lavorato, ha anche contribuito alla cattura di Totorin. E quindi i viaggi della rondine, i viaggi della rondine perché questo cuoricino di rondine viaggia sempre con me. Nella poesia che fa da segnalibro è spiegato bene, anche se non è detto di questo, ma è spiegato bene del fatto che una rondine che tornava al tetto per dar da mangiare i suoi rondinini si accorge che anziché tre erano due perché una lieve orca mano che era stata la mano di mio zio Giovanni aveva preso questo rondinino, le aveva estirpato il cuoricino e questo cuoricino fu fatto ingogliare a me inconsapevole neonato. Quindi poi mi sono riscattato liberando la sorella rondine a Torino. Mi è sembrato di cogliere questa parabola, per me molto piacevole e molto bella. Il libro si compone essenzialmente di tre parti. La parte riguardante Faggiano, la parte riguardante il mio servizio militare a Firenze e la parte riguardante a Torino. Della parte riguardante Faggiano più o meno abbiamo parlato fino adesso, ma per me la parte più importante della mia vita e della mia storia è la parte riguardante a Firenze. Perché Firenze? Perché a Firenze ho avuto occasione di avere due amici di grandissimo spessore. Uno di questi ha presentato qui il mio libro a Torino, ma un altro, che era un ragazzo, aveva qualche anno più di me perché aveva rimandato per via dell'università il servizio militare, era veramente straordinario. Per me questo uomo, che fra l'altro poi non aveva compiuto neppure studi classici, era un perito agrario, però questo uomo ragazzo, questo giovane dormiva con i dialoghi di Platone sul comodino. Questo uomo è diventato, appena finito il militare, il segretario particolare di Ugo Lamalfa, uno dei padri costituenti della nostra Italia e aveva sempre a che fare con allora presidente Saragat. Quindi io ho frequentato questi ambienti, non solo, ma lui era di casa, era quasi un figlio da un personaggio famosissimo, lo scopritore della lineare B nella scrittura micenea, un certo professor Giovanni Pugliese Carratelli, che è stato il successore di Benedetto Groce alla presidenza dell'Istituto Filosofico a Napoli. E quindi per me questo periodo è stato molto formativo, specialmente con Franco Montanaro, che io e l'amico Antonio ricordiamo sempre. E poi c'è il periodo di Torino. Il periodo di Torino, come ho accennato prima, tra illusioni, disillusioni, sofferenze, anche sofferenze perché sono stato uno degli emigrati che ha visto scritto sulle pareti, non si affitta ai meridionali. La cosa un po' si ripete ancora con i meridionali prima e con gli extracomunitari adesso da parte di qualcuno che è molto in auge, sembra sia molto in auge. Non mi intendo di queste cose, quindi lascio perdere. Quindi anch'io ho avuto queste, diciamo, queste sofferenze dell'emigrato. Però dopo mi sono inserito adesso a Torino, in Piemonte, non si è più piemontesi calabresi, si è italiani, i meridionali sono altri, sono quelli che salutano salameleklek salam come è scritto nel libro e quindi è tutto un divenire. A Torino sta bene, ma io come tutti gli emigranti della prima generazione ho le radici al vento. Queste radici sono sempre esposte al vento, queste si muovono quando sono a Torino, quando il vento della nostalgia, dei ricordi agita queste radici e io torno a Faggiano. Ma quando sono a Faggiano queste radici sono agitate da altri venti. Sono i venti della casa, sono i venti degli affetti familiari, sono i venti del lavoro che hai fatto, sono i venti della sistemazione e quindi dopo che sono stato qui un mesetto o giù di lì, questi venti diventano prorompenti e quindi me ne torno. E il mio è un continuo viaggio ed insieme con me viaggia anche la rondine. Professore noi la ringraziamo per questo gentile intervento, per averci spiegato un po' la sua vita e come è arrivato alla scrittura di questo libro. Se qualcuno volesse acquistarlo, io davvero ve lo consiglio tanto, potete trovarlo nell'edicola santese qui a Faggiano. Buona serata. Grazie.